I mestri di sci di cortina, entusiasti pattitori d'onore per la grande competizione e i reparti alpini rassettano la pista per la manche decisiva. In partenza il tedesco Max Polkart. Metri 81,5, punteggio totale 222,5. Il tedesco Harry Glass, il migliore della prima manche. Metri 85, punteggio totale 224,5. Il finlandese Aulis Callacorpi, ex campione del mondo. Stile magnifico, metri 85, punteggio totale 225, il migliore finora. Ma c'è un uomo lassù, un rude, semplice boscaiolo, il finlandese Antti Ivarinen. Pista libera. Oro e atterraggio perfetti. Ha saltato metri 84. Nessuno sarà in grado di fare meglio di lui. La 24esima e l'ultima medaglia d'oro dei settimi giochi olimpici invernali è di Antti Ivarinen.